big match al pala scoppa decima giornata del girone b di serie c2 di calcio 5 davoli soverato contro ludos reggio seconda contro terza partita bellissima subito in apertura reggini in vantaggio grazie a politi pareggio immediato dei padrone di casa grazie a francesco parafati poco dopo ci pensa ranieri a portare i vantaggi padrone di casa ma ancora una volta politi e successivamente polimeni rimettono i risultati in favore della squadra ospite bilotta in chiusura di primo tempo riesce a pareggiare i conti andrea raffaele in apertura di ripresa porta il punteggio sul 4 3 dando vita a una ripresa spettacolare ricca di colpi di scena e di tanto agonismo ma alla fine tre punti vanno ad avori academy che così rimane in cia della capolista locri grazie a tutti grazie a tutti